Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi anche oggi un bel po' di novità, alcune incredibili riguardanti i prossimi giorni di Fortnite. Nonostante lo staff di Epic Games sia in vacanza, i leakers trovano sempre il modo per darci belle notizie, fresche fresche, anche come vi dicevo già ieri, grattando nei meandri più nascosti dei codici sorgenti. Nel video di oggi ragazzi infatti parleremo di alcune news riguardanti oramai l'evento del robot, l'evento che è sulla bocca di tutti, quello che caratterizzerà la season 9 e che come vi anticipavo ci porterà alla season 10 e modificherà indubbiamente quasi tutta la mappa. È ovvio, immaginatevi un combattimento tra il Cactus e il Dogus che sono enormi, non possono non modificare la mappa. Ma anche modifiche diverse, perché la mappa ragazzi forse non ve ne siete accorti, ma da ieri ha dei leggerissimi cambiamenti relativi invece a due giorni fa. Potrebbe essere un primo segnale di qualcosa. Adesso vi farò vedere delle immagini e delle notizie ufficiali, finalmente per quanto riguarda l'arena in trio. Il torneo, il primo torneo ufficiale di Fortnite che vedrà giocare le squadre composte da tre giocatori. Ma prima ragazzi volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator Xiodarone. Grazie, grazie di cuore ragazzi per sostenere il canale sciopazzando di prepotenza col mio codice. Mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima la domandina raga, la domandina ve la devo fare, non posso non farvela. Ci tengo tantissimo ai vostri commenti qua sotto, me ne lasciate sempre un sacco. E quella di oggi, cosa ne pensi del nuovo fucile? Ragazzi è uscito ieri, lo abbiamo visto in tre rarità diverse, comune, non comune e raro. Io l'ho provato poco, quindi volevo aspettare i vostri commenti. Per quel poco che l'ho provato non lo so, lo devi usare proprio da vicino. Nel senso non fa assolutamente male. Facevo i colpi da 15 metri, facevo due. Raga due, mai visto un due su Fortnite, neanche quando il pompa non era fixato e allora toglieva tre per dirti. Comunque, a voi come sembra questo fucile? Ci sta? Non ci sta? È utile? È la quarta cagata di Fortnite? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio levante e bando alle ciance. Andiamo subito, subito ragazzi a parlare del primo argomento e non poteva che essere lui il nostro donato mostarda. Grande donato ragazzi che, come sempre, anche se è lì che si sollazza allegramente a bordo piscina nelle Hawaii, ci fa sempre bel sfrigolare tipo bacon, cambia la sua location e adesso è building. Quindi, costruendo, per chi non sapesse, l'inglese. Questo ovviamente è relativo al robottone giga che tutti abbiamo visto, piano piano si sta formando nella piattaforma dell'impianto a pressione. Da qualche ora, da ieri, in realtà, è apparso la prima sezione. Apparsa la prima sezione, la seconda sezione, il secondo piede e la parte alta della gamba. Come vedete, il robot ha delle dimensioni esagerate. Ragazzi, sono assurde. Ma devo dirvi che, agli occhi delle persone più attente, non è sfuggito un particolare molto interessante. Quei piedi sono davvero tanto somiglianti al robot che ci è stato dato in apertura di questa season. Per farvi capire, in poche parole, quello che a livello 99 sblocchiamo lo stile nero. E c'è un'immagine che sta girando su internet. Io vi chiedo di prendere questa immagine che sto per farvi vedere con le pinze. Non so se sia attendibile, non so se sia un montaggio o se sia un file trapelato. Ragazzi, non è questa! Ve la faccio vedere. È questa! Ragazzi, guardate che roba. Guardate che roba. Se non fosse un fotomontaggio, le dimensioni del robot sono addirittura più alte e di un botto delle piattaforme volanti in cielo. Come vedete, ragazzi, i piedi sono i suoi. I piedi sono i suoi. Io non so. Mi ha strabiliato questa immagine. Quando l'ho vista, spero che anche voi, in qualche modo, ne siate rimasti a bocca aperta. Ma l'immagine che avete visto poco fa, che è questa, è in realtà la lista dei prossimi pezzi del robot che verranno proposti. Quindi abbiamo la gamba sinistra, la gamba destra, il torso, i bicipiti, la parte alta. Insomma, ragazzi, il robot. Probabilmente il prossimo pezzo lo vedremo. Giovedì. Questo giovedì, in poche parole. Ma andiamo avanti e parliamo di un altro argomento interessantissimo, ragazzi, che è proprio le modifiche della mappa. Sono immagini molto veloci, ma immagini anche interessanti. Come avete capito, qua siamo a lande letali. E fateci caso, quando iniziate le partite, questa porzione qua di lande letali adesso non ha più il grano, in poche parole. E non è l'unica, perché sembra che anche tutta la sezione dietro dell'altra casetta, qua siamo proprio dietro la casa principale, sia completamente senza il grano. Adesso io non ho fatto caso a questa sezione, ma quella dietro ricordo benissimo che il grano c'era fino all'altro ieri. Qua non ci ho fatto caso, ma sembra che qualche modifica stia cominciando ad esserci. Potrebbe essere, magari, l'inizio di un qualcosa per la season 10? Non lo so, però le modifiche ci sono e quando le modifiche ci sono, qualcosa sta per accadere. E andiamo avanti, ragazzi, e parliamo di un altro argomento che non vi avevo anticipato, forse nel titolo, il ritorno di Kevin, ragazzi. Del cubo, voglio subito tranquillizzare gli animi, no, non tornerà come evento, ma arriverà, ragazzi, in un bellissimo quartiere nuovo. Che è proprio questo, ragazzi, ed è davvero tanta tanta roba, creato da Pruz, che non so bene chi sia, ma votato in una maniera spasmodica su Reddit. E devo dire che il lavoro è veramente eccellente. Il nostro Kevin the Cube in formazione d'attacco, ragazzi, con tanto di... Ve le ricordate, ragazzi, quella specie di... Le cose delle rune che ti facevano rimbalzare queste cose qua, viola, quanti ricordi. Quanti ricordi, ragazzi, e quindi molto presto, se la community ha votato a favore di questo quartiere, sicuramente anche il team di Epic Games non potrà ignorare, appunto, il volere del popolo. Ed è probabile che arriverà prestissimo nel nostro Battle Royale. Ma proseguiamo, ragazzi, dopo il Kevin e andiamo finalmente a parlare delle notizie ufficiali dell'evento del trio. Sappiamo che ci sarà la parte di qualifiche nel weekend del 13 e 14 luglio, quindi al rientro proprio dello staff di Epic Games. Sappiamo che chi si qualificherà andrà all'evento, in America ovviamente, dove sono stati invitati i più grandi giocatori del mondo. E mi sa che Ninja non l'hanno invitato. Ho letto la lista, c'è Tfew, c'è Klocki, c'è Nick Merckx, non c'è Nick e H30, ci sono un sacco di membri dei Faze. E, insomma, ragazzi, il torneo avrà come punteggio vittoria reale 10 punti e poi dalla seconda alla quinta posizione 5 punti, dalla settima all'undicesima 3 punti e dall'undicesima alla quindicesima 1 punto, qualcosa del genere. Sarà ovviamente a partite limitate e molto probabilmente, ragazzi, va che belli che sono, e molto probabilmente, ragazzi, non ci sarà il problema di perdere punti giocando le partite. Quindi il ticket, in realtà, non esisterà. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo anche per aver guardato oggi il video delle news. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alle 8 in live. Ciao!